Allora, dichiarazione del Biagione per questa giornata? Eh no, è che so bravo, cioè so bravo tanto, mi dispiace per te, ma si vede, non mi visto che so bravo tanto. Io te lo dico spesa. Perché ridi? Mi sta toccando un bibì davanti alla chiesa, io non lo so. Perché ridi? Non ci credi a quello che dico? È bravissimo, è bravissimo, che devo fare io? Il procuratore, basta. A parte che adesso non te lo posso dire, perché stimo qui, però tu lo sai che c'hai una zia, tanto si imbarca. Quando si fa l'intervista gli occhi hai detto in camera. Eh, la zia sua è tanto si imbarca, però è so bravo forte, lanciavo un ministro sulle tere. Lanzavo, sì, infatti, infatti. Fango, canali, non c'era niente. Non c'era Santi che tenia, si dice. Ho fatto un piccolo coso su quella curva, però, adesso, almeno anche voi altri, spiegate un po'. Cioè, per spiegliambo fiato, con gli altri. Cioè, fortuna che ci aspetta ogni tanto. Sempre quella del città, comunque. Per gli affezionati ascoltatori, sempre quella della razza. L'FDZ era. L'FDZ, esatto, quella della razza. Ecco, il mistero è svelato. Il mistero è svelato, è la zia della remessa. Adesso è ora che ci prendiamo la benedizione. È ora che io lo prima a mangiare. Eh.